Bene amici e ci siamo solitamente fino all'anno scorso, agosto era il mese del Note ma lo sapete, avete letto il rumor, anche qualche mia notizia quest'anno ragazzi niente Note ma qua dentro ci sono due telefoni e forse anche qualcos'altro che andranno a sostituire la gamma Note scelta strana quella di Samsung di aver diciamo cassato uno dei telefoni secondo me che andavano meglio ma ha un senso vabbè nel frattempo vi faccio vedere cosa c'è in questa confezione vabbè Note Package quindi qualcosa di Note c'è ma guardate la forma è per il Z Fold 3 ci sarà qua dentro anche lo Z Fold 3 ma 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 Galaxy Watch 4 quindi una presentazione quella che sta avvenendo proprio in questo momento quindi voi cliccate un po' di qua un po' di là guardatemi in live ma guardate anche questo unboxing anteprima dove state presentate anche queste Galaxy Buds 2 migliorate ma eccoli qua pacchetti sottiletta guardate come sono sottili perché sicuramente saranno aperti dispiegati stiamo parlando dei due Foldable che sono arrivati e che adesso vi racconto in maniera abbastanza veloce perché poi ovviamente farò la recensione completa tra qualche giorno questo è il Fold 3 display interno da 7,6 pollici mamma che bello che bel rumore bellissimo una diagonale invece del display esterno da 6,2 pollici 387 ppi 374 ppi entrambi i display sono a 120 Hz vediamo se c'è un po' di batteria che inizia ad accenderlo e la grande novità è che grazie al cover si sta accendendo si può utilizzare la penna quindi Samsung che ha deciso di portare la penna sia su S21 Ultra sempre che si può usare e agganciare la cover sia su questo Z Fold 3 tra l'altro ci sono due tipi di penne una passiva che è questa dentro la cover che dà comunque le funzioni di base della S Pen secondo me forse è quella che ha anche più senso ma c'è anche un'attiva Bluetooth che dà le funzionalità anche di scatto da remoto insomma tutte quelle cose che si possono fare con il Bluetooth poi lo installerò ma adesso vi racconto del peso prime impressioni come il Fold dell'anno scorso non leggerissimo mi sembra che sia 283 grammi sempre la forma leggermente asimmetrica con 14 militi da una parte e 16 dall'altra dove c'è la cerniera ma la grossa novità di quest'anno è che hanno re-ingegnerizzato tutto il signore di cerniere per renderlo IPX8X che è il primo numero della sigla vuol dire la resistenza alla polvere quindi c'è ma non è diciamo dichiarata 8 la resistenza all'acqua lui può stare un metro e mezzo per 30 minuti senza in teoria che succeda niente ovviamente audio stereo ovviamente la USB tipo C ovviamente tipo C le cam sono queste tre tutte da 12 megapixel c'è una normale grandangolare e una zoom la normale a 2x sono anche stabilizzate otticamente ma guardate voi lo vedete il foro della cam? no non lo vedete perché è sotto al display camera anteriore da 10 megapixel proprio sotto allo schermo ma vediamo cosa c'è in confezione ve lo faccio vedere così ragazzi ho degli strumenti non proprio adatti alla situazione ma vabbè mi sono un po' arrabattato non c'è dentro niente raga niente zero zero zerella confezione non benissimo però per chi va a preordinare dall'11 al 26 di agosto mi sembra questo è in omaggio con appunto cover pen e anche alimentatore la batteria 4400 mAh ovviamente carica wireless a 10 watt e qua dentro ci sarà sicuramente no il cavo c'è il cavo c'è era dentro alla confezioncina e c'è qua il pin dovrebbe essere dual sim ma questa cosa facciamo così la guardiamo subito cerchiamo qua il carrellino e voilà lo estrago sim da una parte e sim dall'altra tra voi sapete io amo molto il fold con la penna probabilmente lo amerò ancora di più ma vi parlo adesso dello Z Flip 5G anche lui super confezione sottiletta bello questo colore ecco devo dire che quest'anno i colori dello Z Flip sono tanta roba prima di tutto anche qua una bella spellicolazio color crema poi andate a vedere la presentazione l'articolo fatto sul blog ci sono anche tutte le altre colorazioni tra l'altro anche i materiali dei telefoni quest'anno sono stati migliorati con il Gorilla Glass Victus esterno più resistente un alluminio per la scocca aeronautico più resistente e le pellicole che vanno a proteggere i display ovviamente che sono pieghevoli quindi adesso non so se si riesce a vedere la pieghettina un filo si vede non siamo ancora arrivati alla pieghevole perfetto per quanto riguarda il display interno però anche lui comunque ha un display da 120 Hz e vi sto dicendo che anche la pellicola interna è stata decisamente migliorata mentre si accende vi faccio vedere che qui no la cam diciamo non è sotto al display è una cam anteriore tradizionale mentre posteriormente le due 12 megapixel sono diciamo di fianco al display che è stato molto ingrandito perché diventa 1,9 pollici 260 x 512 pixel qua ci potranno andare dei widgetini per fare un po' più di cose rispetto al precedente anche questo va acceso anche qua c'è l'audio stereo ma direi che adesso li configuro e quindi vi faccio vedere magari qualche funzioncina e poi vi do appuntamento alla recensione completa ecco la domanda che vi faccio è preferite che provi prima il flip o il fold perché non lo so anch'io c'è una scimmia incredibile ovvio che le buds e i watch 4 metto subito al polso ed ecco qua praticamente tutto l'ecosistema presentato oggi ho anche provato a installare la cover sul fold è attiva quindi se si apre guardate la flip davanti si accende lo schermo la penna si incastra lateralmente così c'è un alloggiamento dedicato e ovviamente se poi lo si vuole aprire completamente si fa così e con la penna tra l'altro sensore del pronto digitale messo qua di fianco che funziona bene e tra l'altro si sta cercando di collegare al watch 4 che poi configurerò ma si attiva ovviamente la funzionalità relativa alla penna con le classiche funzionalità della nota messaggi live eccetera 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 quindi tutte le potenzialità del note vengono racchiuse su questo fold per il resto le grandi novità oltre all'impermeabilità oltre alla penna sono un multitasking migliorato ma soprattutto un multi windows migliorato una gestione un po' diversa delle applicazioni aperto e chiuso dove si può andare a configurare qua fuori una diciamo schermata e si si poi ti configuro carl watch 4 che poi si può riprendere dentro si possono scegliere applicazioni che rimangono attive quando si apre sicuro insomma poi questo ve lo racconterò nella recensione completa ma la penna gli può dare quel valore aggiunto che mi aspettavo quanto costerà ve lo dico subito 1849 euro la versione 12 256 1949 la versione 12 512 gigabyte invece la grande novità del flip è il display esterno che si attiva o schiacciando qualsiasi pulsantino ci sono dei widget dedicati si può andare a scattare con la cam esterna per fare foto migliori con ah beh giustamente anche qua mi chiede di abbinare il watch con la camera esterna magari così guardate e facendo così vedete voi vi potete auto riprendere e poi la grande novità è che anche lui è impermeabile quanto costa 1099 euro la versione 828 1149 euro la versione 8256 molto bello il design di quest'anno qualche widgettino in più qua che consente di vedere vedete le anteprime delle notifiche si possono cancellare si possono anche andare a gestire un pochino più cose rispetto al passato e secondo me il flip ha proprio senso perché è un telefono che si può utilizzare tranquillamente aperto e poi chiuso diventa piccolino anche se un po' spessino però i suoi 183 grammi di peso poi quest'anno è anche diciamo stereo l'audio la batteria sì non sarà grandissima ma secondo me arriverà tranquillamente a sera mi ricordo il flip precedente che mi aveva convinto in questo senso ma ripeto anche qua arriverà la recensione completa invece molto interessante adesso lo farò l'abbinamento perché mi ha chiesto già 62 volte Watch 4 perché ha il nuovo Wear OS personalizzato Samsung cioè Wear OS non è nuovo è il sistema operativo di Google ma Samsung ci ha messo del suo per integrare tutto nel ecosistema e c'è un nuovo sensore quello del BMI quindi massa magra massa grassa composizione del corpo e la sincronizzazione anche con i Samsung TV quando si va a fare del fitness e in ultimo le Buds 2 eccole qua che hanno la novità di un chip dedicato per la qualità delle chiamate vocali in più c'è una nuova applicazione per pc proprio per andare a configurare e a settare le Buds vi ricordo dall'11 al 26 di agosto ci sono delle promo che vi ho raccontato prima per quanto riguarda l'acquisto in preordine noi ci vediamo alla recensione completa di tutto con una richiesta volete che provi prima il flip o il fold io sono per il fold mi scimmia di più poi con la penna mi sembra veramente super completo quest'anno impermeabile ok dai connettiamole ma fatemi sapere ciao ciao